Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, 4 km di coda tra Calenzano e la variante di Valico per un veicolo in avaria. Coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna per traffico intenso. In A11 in direzione Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla FIPI, lì i rallentamenti tra la Strassigni e l'allacciamento per la 1 in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle, scambio di carreggiata per lavori tra Rigo Magno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione Siena. A Firenze fino al 29 giugno è in programma Pitti Immagine. Ci sono provvedimenti e modifiche alla circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!